Chiara Nasti mostra ai suoi follower la sua uscita in zona gialla, l'outfit che indossa è mozzafiato, fan impazziti di fronte alla sua gonna cortissima. Corpo mozzafiato e bellezza da paura, Chiara Nasti ha infuocato il web nelle scorse ore. Sul suo profilo Instagram ha postato una foto che la ritrae più provocante e bella che mai e ha mandato il web totalmente in tilt. Nel sensuale scatto la meravigliosa influencer è in piedi, indossa una giacca di pelle e una gonna cortissima che a stento le copre le parti intime. Questa le lascia scoperte le sue gambe pazzesche, con la sua sensualità ha fatto impazzire i suoi tantissimi follower. Chiara Nasti approfitta della zona gialla per uscire un po' dopo settimane di zona rossa e arancione. La sua yellow zone, però è molto piccante. Ancora una volta Chiara Nasti ha incantato il web con la sua incredibile bellezza e la sua assurda sensualità. Super provocante e sensuale ha fatto girare la testa a tutti coloro che la seguono e la amano. La nota influencer ama provocare i suoi seguaci con scatti e pose super oce e saltano le sue curve da paura. Con la sua bellezza e il suo corpo da favola manda sempre il web in delirio. La Nasti è bella da togliere il fiato. Anche l'ultimo scatto postato ieri sera su Instagram ha fatto perdere la testa ai suoi tantissimi follower. Nello scatto Chiara Nasti indossa una gonna cortissima che mette in risalto le sue favolose gambe. Il post ha conquistato fino ad ora quasi 75.000 lichè e tantissimi complimenti. L'influencer è stupenda e fa sognare. Grazie a tutti.